Bella a tutti ragazzi e bentornati qui da Marte Bicerchiato in questo nuovissimo post partita Ieri è iniziato il campionato di Serie B ed è iniziato subito col botto Infatti nuova Sampdoria, nuova vittoria Ci siamo soprattutto tolti i due punti di penalizzazione dai nostri problemi Infatti con la vittoria di ieri passiamo a più 1 in classifica A pari punti con i vari Bari, Palermo, Cremonese, Catanzaro eccetera eccetera Prima di cominciare però col commento post partita Vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste già fatto Lasciate like al video, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i miei contenuti È tutto gratis, non avete scuse, grazie mille Ma adesso torniamo a noi e torniamo alla partita di ieri Ieri ho visto una buona Samp considerando anche che il campo su cui giocare era molto difficile È già in partenza quindi bene così E inoltre abbiamo giocato con delle assenze importanti nel nostro organico Come per esempio per citarvi alcuni nomi Il pirata Fabio Borini è esposito in attacco Ci manca Ferrari Gianmarco che ancora non è ufficiale il suo acquisto Però la trattativa dovrebbe essersi conclusa Quindi aspettiamo solo l'ufficialità di Gianmarco E poi ci mancava anche un certo Matteo Ricci a centrocampo O per il ruolo di regista Quindi considerando tutte queste assenze Non abbiamo giocato male Anzi ho visto un'ottima Samp con questo gioco di Pirlo Molto offensivo che parte dalla costruzione dal basso Io non voglio essere troppo ottimista per questa stagione Ma se abbiamo giocato così ieri Praticamente senza difesa E con un certo Nino Lagumia in attacco E con De Pauli adattato esterno d'attacco Che comunque ieri ha disputato un'ottima gara Ma comunque non è il suo ruolo naturale Anzi lui ha sempre fatto il difensore Figuriamoci poi al fine mercato Quando avremo la squadra al completo Quindi sono molto fiducioso per questa stagione Poi non vorrei sbagliarmi Ma tornando alla partita di ieri Volevo farvi questa domanda Lagumina e De Pauli Visto che ieri sono stati gli uomini decisivi della partita Li terresti fino alla fine del campionato Oppure li toglieresti al centro del progetto Allora io personalmente Lagumina Sulla Gumina sono ancora un po' scettico Perché è vero che ha tirato un ottimo rigore Per carità dal dischetto Contro il portiere Iannarini Però a parte questo Poco e niente Cioè per intenderci Era sempre il solito Nino di sempre Per quanto riguarda invece De Pauli Io non l'ho mai capito Tutte ste critiche su di lui Io penso che in Serie B Possa tranquillamente fare la differenza E penso anche che contro il Sud Tirol Era solamente una giornata No Che capita comunque a tutti i calciatori Quindi prima di criticare Scusate i giocatori Dopo una sola partita Aspettiamo Guardiamo Osserviamo O non iniziamo a parlare A criticare Eh te non sei adatto Alla Sampdoria No Perché se De Pauli L'anno scorso In Serie A Col Verona Quasi retrocesso O ha fatto due gol E due assist Un motivo c'è Se Pirlo Vuole puntarci E vuole mettere Al centro del progetto Fabio De Pauli Un motivo c'è Se la Samp Vuole rinnovare il contratto Un motivo c'è Quindi secondo me È giusto continuare A dargli fiducia Anche perché ieri Ok che Lagumina Ha segnato il primo gol Su rigore Però Chi è che se l'ha procurato Invece nel secondo tempo Con un ottimo assist Di Askinson Che anche lui È inspiegabilmente Criticato dalla tifoseria De Pauli Ha dribblato il portiere Nonostante tutti gli acciacchi fisici Che aveva dall'inizio La partita Tutto solo Gol E con questa immagine Con De Pauli Che corre ad abbracciare Pirlo E con tutta la nostra squadra A festeggiare I nostri tre punti Il video finisce qui Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Secondo voi Lagumina De Pauli Sono da tenere Oppure non li mettereste Al centro del progetto Fatemelo sapere qui sotto Mi raccomando O iscrivetevi al canale Mi raccomando Like E niente Ci vediamo senz'altro In un mio prossimo video Ciao Ciao